Non si fa altro che criminalizzare una parte degli studenti mettendoli all'agonia di fronte ai propri compagni ed insegnanti. Un altro subdolo mezzo per spingere alla inoculazione dei vaccini è l'accusa avanzata da diversi comitati nei confronti di quello che definiscono l'ultimo folle, ingiustificato e disumano attacco lanciato da un gruppo di sindaci con capofila e primo cittadino di Pesero, Matteo Ricci, i quali hanno chiesto di precludere l'accesso alla scuola a bambini e ragazzi non vaccinati o figli di non vaccinati, relegandoli all'istruzione surrogata della didattica a distanza e di fatto ghettizzandoli. Continua così, si legge in una lettera congiunta, la divisione e la discriminazione nei confronti di tutti coloro che volontariamente e nel pieno esercizio di diritti costituzionalmente garantiti hanno deciso di non aderire alla campagna vaccinale. Contestiamo il fatto che questa proposta di estensione del Green Pass agli studenti anche delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori sia totalmente discriminatorio per questi poveri ragazzi che non hanno nessuna colpa ma che hanno subito più di tutti la pesantezza di questo periodo che ci troviamo a vivere ormai da due anni. Questa ennesima discriminazione è basata su il nulla dal punto di vista sanitario perché sappiamo benissimo che sono in meno colpiti in assoluto dal Covid in quanto ha conseguenze gravi o gravissime e quindi non si vede il motivo per cui costringerli di fatto a una vaccinazione perché non sarebbe sostenibile un tamponarsi ogni due giorni se poi è quello l'obiettivo oppure già direttamente il Super Green Pass questo non si è capito ma comunque si sa che il fine è la vaccinazione. Nella lettera voi citate anche una libertà di scelta nonché gli articoli della Costituzione. nell'articolo 34 inerente alla scuola che è un diritto fondamentale di tutti i bambini, di tutti i cittadini e l'articolo 3 per cui ogni individuo è uguale dinanzi alla legge per cui questi cardini della Costituzione e della legislazione italiana non possono venire meno per folli, a mio parere, richieste di uno o più sindaci. E' tragicamente disarmante, hanno spiegato i gruppi e i comitati osservare la semplicità con cui gli esponenti politici del territorio si accaniscano contro le fasce più deboli che di contro andrebbero maggiormente tutelate. Ci troviamo di fronte all'ennesima sparata di una politica incapace di gestire un'emergenza e che non trova miglior soluzione che far pagare ai nostri figli la propria inettitudine. La cittadinanza, hanno proseguito nella lettera, non ha riscontrato alcun miglioramento in un trasporto pubblico che andrebbe implementato a prescindere dalla pandemia. Nulla è stato fatto per abolire le classi pollaio nonostante gli innumerevoli appelli ricevuti. Interrogatevi, cari sindaci, sull'incapacità delle ASL di fronteggiare la richiesta di tamponi sui protocolli di quarantena non rispettati e continuamente modificati e arriverete, speriamo, a comprendere che il Green Pass non sarà la panacea di ogni male e che dovrete voi impegnarvi in prima persona per risolvere l'attuale situazione con interventi strutturali mirati. La scuola, hanno concluso, è per tutti e di tutti. Questi principi valgono molto di più di richieste perentorie e assurde di sindaci che in nome di un bene collettivo poi non guardano in faccia a nessuno e non tengono sotto mano soprattutto l'evidenza di una pericolosità reale di una vaccinazione così scriteriata su persone che non ne hanno assolutamente bisogno.